Siamo notati Gesù e Maria. A te le sorelle carissime di comunia, noi ci attiviamo con gioia la solennità dell'Epifania in cui la gloria del Signore nuovamente torna a manifestarsi ai cuori dei fedeli, così come si manifestò duemila anni fa ai Santi Magi e come sempre si manifesterà a tutti i cuori e le menti disposti a riconoscerne e ad accoglierne i segni ed anche a sostenerne gli adorabili fungori. L'Epifania è certamente una grande festa della fede, si professa la fede nella divinità del nostro Signore Gesù Cristo, questa è la festa dell'Epifania. I Magi adorano il bambino e sappiamo che si adora soltanto Dio, quindi se si adora quel bambino vuol dire che quel bambino è Dio. Però, come sappiamo, questa è anche la festa dell'intelligenza rettamente adoperata, ossia di quel grande, grandissimo dono che Dio ha fatto agli esseri umani che purtroppo per pochi imparano ad usare nel modo debito e dovuto. Ricordiamo sempre, questo ci l'hanno insegnate insieme sia San Giovanni Paolo II che Buonanima appena partita da questo mondo del suo successore, che ve l'ha detto sedicesimo e all'epoca il suo collaboratore in congregazione dell'ottina della fede, che ragione e fede non sono due nemiche, ma sono due alleati, perché sono due cose che vengono da Dio, solo che la fede deve essere debitamente formata e la ragione rettamente adoperata. Se ci sono queste due cose si realizza un grande sposalizio, altrimenti ci sono problemi di vario genere che certamente non è un'umilia la sede opportuna per affrontarla, sono molto molto grandi. Ora, la Chiesa è sempre stata dalla parte della retta ragione, cioè della ragione fatta ben funzionare, correttamente, onestamente e santamente. Infatti, come tutti quanti doni di Dio, pensate che la ragione fa di noi esseri umani simili a Dio, cioè noi abbiamo un'anima spirituale, è per questo che ragioniamo. I nostri animaletti, caucci, compagni di vita domestici, sono tanto affettosi, sono tanto buoni, ma la ragione non ce l'hanno, è per questo che non parlano. Sapete che gli animali parlano soltanto nei graziosi fumetti animati di Walt Disney, che sono tanto carini alcuni, però parlano soltanto lì, perché la ragione non ce l'hanno. ma, però, come tutti i doni, se ne vuole fare un uso completamente distorto, sbagliato, scriteriato, e quindi può diventare da strumento di elevazione, addirittura uno strumento di rovina, di perdizione, di scettacolo, di ogni cattiveria, di malvagità. Secondo voi, Lucifero, era intelligente oppure no? Era intelligente di tutti? E che ne ha fatto dell'intelligenza? Un guaglio, no? Un boss, secondo voi, della camorra, o della mafia, o un narcotrafficante, per poter gestire una cosa del genere? Secondo voi è intelligente oppure no? È stupido? No! Ma certamente non stanno facendo un uso corretto della ragione, così come i cosiddetti scienziati razionalisti e scientisti, che certamente non sono stupidi, ma non fanno un uso retto e corretto della ragione. Quindi dall'uso retto e corretto della ragione escono fuori i magi, cioè persone che pur non essendo credenti arrivano alla fede e ad adorare il Signore. Dall'uso scriteriato della ragione escono fuori i più grossi disastri che siano mai successi. La caduta degli angeli viventi, dell'inizio dell'inferno e la caduta di tanti esseri umani, che per esseri umani si trasformano in una sorta di demoni incarnati. I magi, infatti, non erano credenti e non erano nemmeno ebrei, quindi non c'erano nessuna profezia che potesse aiutarli. Non potevano, ovviamente, meno che mai, essere cristiani, perché i cristiani qua non c'erano. Appartenevano alla categoria di quegli uomini, come abbiamo cantato nel Gloria, lodati dagli altri, leggevano la nascita di Gesù, sono uomini di buona volontà. Cioè, chi? Cosa fanno? Erano persone, a quanto pare, potenti, erano dei re, ricche, intelligenti, che però fesero la scelta, ecco perché di buona volontà, di impiegare l'intelligenza non a cose dannose o inutili, ma alla comprensione degli arcani e dei misteri gli accadevano sotto i loro occhi e che per questo giunsero ad adorare il Signore dell'Universo e il promesso Messia. Furono guidati dalla stella. Hanno semplicemente fatto degli studi astronomici per capire cos'era quel misterioso astro. Anche qui non c'è tempo di approfondire. Andate a fare le ricerche online. Vedrete che quando è nato Gesù questa cosa è successa veramente. C'è stato questo astro straordinario. Quindi loro sono riusciti a decodificare che cosa quel astro rappresentava a sicurezza di arrivare. Questa è un'operazione intellettuale, intelligente. Ecco. E quindi giunsero per primi, prima addirittura di coloro i cortigiani di Eronia avevano tutte quante le carte in regola per scoprirlo, a riconoscere e ad adorare l'atteso Messia. Quindi, andiamo già verso la conclusione, l'intelligenza è una grandissima risorsa ed è un alleato per arrivare a conoscere o riscoprire, magari, una fede perduta, purché, ripeto, la si adoperi in modo retto e corretto. Voi capite? L'intelligenza è una grande risorsa, ma prima dell'intelligenza viene la volontà. Cioè, tu che uso vuoi fare delle risorse e dei doni che Dio ti ha dato? Ci sono modi e modi, no? Si potrebbe, per esempio, stancare l'intelligenza, come fanno alcuni dei personaggi oscuri che ho citato prima, per escogitare i modi per fare sempre più soldi. Ma voi mi siete chiesto, la malavita organizzata, la mafia, la camorra, l'andrangheta, la sagagorona unita, che ne so, tutte le cose che esistono, a che serve? Sapete a che serve? A fare un sacco di soldi ai membri dell'organizzazione, nonché a soddisfare qualche desiderio di potenza e di potere, avere l'illusione di comandare, di manovrare le grandi cose. Giusto? Quindi, soldi, oppure applicare l'intelligenza per ordire trame e inganni per conservare o accrescere il potere, questo veramente lo fanno anche persone non appartenenti alla malavita organizzata, possono farlo anche persone molto comuni per poteri temporali e speriamo non anche per altri, ma purtroppo la storia fa venire il sospetto che siano state fatte queste cose anche per conservare altri tipi di potere, oppure la si può addirittura umiliare, la nostra ragione, e moltificare rendendo lo strumento, e oggi abbiamo un'ampia panoramica di questo, per la ricerca e la creazione di strumenti sempre più raffinati atti a trarre godimento dai piaceri dei sensi, anche i più bassi. E anche qui non è per opportuno dal pubblico fare doppi esempi, ma se si riflette un po', oggi molto uso di ragione viene fatto sotto questo punto di vista. Quindi con la ragione ancora si può progettare come nuocere al prossimo, si possono escogitare raffinate vendette quando qualcuno c'è fatto del mare. La si può scoputare per inventare scappatoie e sotterfuggi, per svicolare dei propri domeni e responsabilità, o per giustificare come malefatta o cattiva azione. Sono tantissimi così. Oppure la possiamo usare per lo scopo per cui io ce l'ho dato. Perché ce l'ha dato una ragione al nostro Signore? Allora, per cercare Dio, applicarsi la conoscenza di Lui attraverso il creato. Voi sapete che la Chiesa è insegnata nel Concilio Vaticano I, non esiste solo il Concilio Vaticano II, esiste anche il Concilio Vaticano I che, attenzione, l'intelligenza umana, anche senza la luce della fede, se si applica bene a guardare quello che ci sta intorno, può arrivare con certezza, eh, con certezza morale ad affermare che Dio deve esistere. Sapete perché? Perché c'è una cosa molto, molto facile. Chi è che ha fatto tutto quello che ci gira intorno? Il caso? È il caso, no? Sapete che cosa dico ai ragazzini quando vado a carichismo? È il caso. Vi faccio vendere un bel iPhone, sapete tutti quanti attratti da queste cose, dico, vedete questo? E questo l'ho fatto da solo, questo qui. Prova a fare, va a casa tua, pia un pochino dei bulloni delle cose, metti insieme, mischiali, vedi cosa c'è poi in iPhone. Questo non è un discorso da persone credenti, questo è un discorso da persone intelligenti. Sapete cosa dice la Bibbia? Chi è l'ateo? Chi dice che Dio non esiste? In due santi si trova questa affermazione. Lo stolto dice Dio non esiste. Stolto in ebraico significa, raccara, una persona che non fa funzionare il cervello. Perché dire Dio non esiste è umiliare e mortificare la testa che Dio gli ha dato. Perché noi non abbiamo conoscenza di nessuna cosa in questo mondo che sia ordinatamente fatta e che si sia fatta da solo. Datevi un'occhiata in giro. qualunque cosa puoi guardare, guardare dovunque, questa chiesa, qualunque, non esiste neanche una cosa che voi vedete qui dentro che sia fatta da sola. Nessuna. Se qualcuno ne vede qualcuno alzi la mano e mi dica questo è fatto da solo. Guardate. Chi la fate queste balabustre? Chi la fate il ginocchiatorio? Chi la fate l'altare? Chi la fate i candelieri? Che si fanno da solo queste cose qui? C'è una mente dietro che le ha progettate? C'è qualcuno che le ha realizzate? Tutte le cose che veniamo ordinate? Tutte quante? E la macchina perfetta dell'universo si è fatta la sola. Sapete, quando studiavo filosofia della scienza, dico contanto questo è per concludo, la racconto sempre questa storia, la ho già raccontato altre volte, quindi qualcuno già la sa. Sapete che uno scienziato, uno scienziato che si professava non cristiano, quindi non appartenente ad una confessione religiosa positiva, però funzionava. Sapete che si è diventato a fare? Si è messo a fare il calcolo delle probabilità, per quello che conosciamo dell'universo, di quante possono essere le probabilità che l'universo si sia fatto da solo e per caso. Sapete cosa ha concluso? Lo dico io. Dice, guardate, la possibilità che l'universo si sia creato da solo, senza un'intelligenza che l'abbia governata, è la stessa che se tu prendi un gatto, vuol dire che stanno a casa mia. Preferibilmente cieco, come la gattina che sta a casa mia. Lo metti su un pianoforte e quella comincia a zompettare e zompettando ti fa la nonna di Beethoven. Conoscete la nonna di Beethoven? Ecco, allora, se un gatto zompando sul pianoforte fa la nonna di Beethoven senza scarrare manco una nota, l'universo si fa tutto da solo. Ci sono le stesse possibilità, a livello scientifico. Capite che si dice? Capite quindi anche la festa di oggi? Allora, amici cari, chi è quel bambino? È un uomo come tutti o è Dio? Ah, ma io non ci credo che è Dio. E rifletti un po', perché anche quando è cresciuto quel bambino ha dato dei segni che stimolano la ragione, no? I miracoli non li fa un essere umano normale. I diavoli non li scaccio un essere umano normale. I cuori non li legge un essere umano normale. Oh, attenzione, dal cimitero non ci tornano gli esseri umani normali, eh? Ci è tornato uno solo? Tutto normale? Ti fa nascere qualche domanda, questo? Beh, se ti fa nascere qualche domanda, sarebbe meglio approfondire. Perché se quel bambino è Dio, bisogna tornarlo, bisogna ascoltarlo, bisogna amarlo e bisogna servirlo. Altrimenti sono guai in questa e in un'altra vita. Se non c'hai la fede, fatti qualche domanda, utilizzando bene la ragione che Dio ti ha dato, ammaestra la notte dei magi, e vedrai che la stella metaforica, cioè la luce che il Signore ti ha dato, la tua capocetta, ti guiderà verso il medremme e ti porterà a diginocchianti davanti al divino bambino. Siamo notati Gesù e Maria. Siamo notati Gesù e Maria. Siamo notati Gesù e Maria.